E salve a tutti youtube, si fosse Filippo Ferenza qui con una nuova recensione, oggi parleremo della famiglia Adams parte 2 E finalmente ci siamo, 2021, torna la famiglia più sgangherata del mondo, ovvero la famiglia Adams con questo secondo capitolo distribuito dalla Eagle Pictures Italia che come sempre ringrazio e saluto E finalmente torniamo con uno dei film che forse stranamente aspettavo di più di per questo 2021 nel campo dell'animazione Sì perché il primo capitolo non gli avevo dato molta speranza però poi appena l'ho visto mi sono totalmente ricreduto Mi è piaciuto dall'inizio fino alla fine, è stato veramente una gioia vederlo per tantissimi motivi E questo secondo capitolo si conferma essere tale Ma concentriamoci sulla tarama, la nostra famigliola Ci sono un pochettino di problemi all'interno della famiglia Adams perché Morticia e Gomez si stanno purtroppo rendendo conto che i loro amati figlioletti stanno crescendo e non saltando delle cene, rubando anche molto tempo alla famiglia creando un po' di delusione e malcontento all'interno della stessa Quindi al nostro Gomez viene un'idea fenomenale Ovvero quello di rapire i figlioletti, nonna, zio Fester, Hit, Lurch e tutti quanti e portarli in giro per una vacanza molto mostruosa Per fare almeno l'ultimo viaggio in famiglia E vi posso dire che questo secondo capitolo si è dimostrato essere all'altezza del primo seno con qualche gradino in più Questa nuova formula di animazione vi posso dire che mi ha convinto tantissimo Forse vi posso dire che è stato quello che ai tempi del primo capitolo mi aveva detto Non lo so, forse non mi convince, non lo so se può funzionare E alla fine vi sono totalmente ricreduto Grazie ad una comicità semplice e non eccessiva Unito al messaggio che questo film ti vuole instillare Si può veramente dire che è un film adatto per tutta la famiglia E non a vari livelli, da più grandi a più piccoli Ti riesce a installare quel messaggio positivo Che vi posso dire che finora solo questi film considerati diciamoli per bambini Anche se ormai veramente non lo sono Ti riescono veramente a trasmettere un messaggio bello, positivo Che ormai è raro di questi tempi E vi posso dire che se vi è piaciuto tanto il primo capitolo Questo secondo film lo adorerete E speriamo che esca un terzo capitolo, un quarto capitolo Un po' sullo stesso filone di Hotel Transilvania Sono quei film che comunque ne possono fare anche 80, 100 Tu te li guarderesti tutti quanti perché veramente ti fanno passare Quell'oretta e mezza di risate e di spensieratezza Ormai di questi giorni è diventato qualcosa di veramente raro E vi posso dire che per questo secondo capitolo anche la colonna sonora è forse la più bella di sempre Provare per credere E quindi ragazzi che dire spero che la recensione del fantastico e gioioso Film sulla famiglia più sgangherata del mondo vi sia piaciuta Vi metterò qua sotto il link in descrizione la recensione del primo capitolo Insieme al trailer Ci vediamo la prossima volta con una nuova recensione Mi raccomando iscrivetevi al canale Mettetevi piace al video Condividetelo ovunque E ciao 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 Grazie a tutti.